Buongiorno ragazzi, salve a tutti, mi chiamo Raimondo Ricci e sono un pilota. Vengo dal mondo dei rally e come potete vedere gareggio anche nel sim racing e nel 2017 ho vinto il titolo di campione italiano TCR classe TCT a bordo della Peugeot 308. Nel 2012 ho partecipato a un corso di guida della Swiss Nitro Racing per provare, per curiosità più che altro, per provare le sensazioni che si potevano provare in pista venendo dal rally e il loro corso mi ha fatto interessare e aumentare la curiosità a questo tipo di guida per me sconosciuto dove si deve correre al limite, costante, in mezzo a altre persone, non contro il tempo e è una cosa che riesci a affinare solo facendo tanta pratica. Dopo aver partecipato al loro corso ho capito che quella era la direzione da prendere, la pista era la mia vocazione e quindi ho continuato a perfezionarmi sempre di più fino a arrivare, come appunto ho detto, nel 2017 al mio primo esordio in pista a partecipare al campionato TCR e impormi nella categoria TCT a bordo della Peugeot 308. È stato un sogno che si realizzava. I loro corsi sono professionali e coinvolgenti, su veri circuiti e con vere auto racing. Il numero delle persone che viene richiamato in autodromo è ristretto in modo che si possa seguire tutti quanti allo stesso modo e poter discutere a quattro occhi sulle esperienze fatte, su come migliorare e su come poter spingere l'auto al limite in sicurezza essendo in un circuito e quindi senza potersi risparmiare. Anzi, non dovete risparmiarvi. Con me infatti è stato così, tanto che mi sono proposto a loro come insegnante e istruttore di guida e ogni tanto, quando gli impegni me lo consentono, riesco a essere in autodromo con loro e poter prendere parte ai corsi. Quindi, se state cercando un corso di guida professionale a prezzo accettabile ma soprattutto volete farvi trattare come amici e non come clienti contattateli all'indirizzo email che comparirà alla fine di questo video o perché no, andate a sbirciare sul loro sito internet sicuramente troverete il corso che fa per voi. Io vi aspetto in pitlane, mi raccomando gas in fondo! Ciao, alla prossima!